Dietro figlio, vai! Scusatevi un po', adesso lo vediamo. No, adesso no, dopo lo vediamo. E Lisa, l'avete mai data allora? Allora, adesso lo vediamo, con il ledo in porta. Poi, le prezioni sono costi. Lisa, non la potete vedere i miei anni. Adesso, abbiamo dovuto la proposta. Grazie a tutti. Io! 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 Io, il... Grazie. 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 Buonasera. 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 Grazie. 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 Brava Eli. Ema, provateci. Vedi, vedi, vedi. Brava Eli. Brava, brava, veloce. Patrice. Grazie. Vieni, 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 vieni. Ricci ce l'hai dietro Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. 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 Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Seguilo, è angolo, è angolo, è angolo, Viti, stai qua, Viti, stai avanti, stai seguilo, 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 non farlo andare, portala, va bene il nostro, fatevi vedere se no, se no che la dà, appena esce la palla, appena esce la palla, appena esce la palla edo grazie 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 Grazie. 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 Grazie.